Il gran piacere tornare qua, con solo l'agentità del Blue Streamers, noi facciamo un grandissimo applauso, a noi siamo Presidente, ma ci sono diversi amici con cui non vediamo l'ora di non dividere il facco, perché un po' è un po' di tempo che non abbiamo potuto farlo. Grazie per la visione! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti